Buongiorno mister, Alfonso Sciascia Cartacanta, avete battuto la Cremonese, è stato esonerato Albini, domani affrontate il Sassuolo, Dionisi non se la passa benissimo, so che lei sia l'espresso, ovviamente pensate a voi, ma può essere un fattore nell'avversario, nella tranquillità con cui vi affronterà appunto domani? Hai già detto qualcosina tu, che pensiamo a noi in casa nostra, assolutamente non guardo quello che succede in casa degli altri, non mi interessa, non so le dinamiche, non bisogna assolutamente guardare in casa degli altri perché è un grave errore, so sicuramente che il Sassuolo è una grande realtà, è una realtà che va presa come esempio da tanti anni, perché è arrivata in Serie A e ha fatto un bellissimo percorso ovviamente di crescita e noi come Monza potremo prendere esempio dal Sassuolo perché ha fatto davvero grandi cose, domani arriveranno qui con sicuramente dei risultati che non hanno ottenuto in questo periodo, ma sono sicuro che sarà una partita difficile, complicata, allenata molto bene da Dionisi perché è un ottimo allenatore, l'ho seguito negli anni scorsi, ha fatto davvero grandi cose e quindi è una partita complicata, difficile, guardiamo in casa nostra, pensiamo a noi, cavalchiamo questo momento di entusiasmo ma con la massima umiltà, determinazione e con i nostri principi di gioco, con le nostre qualità, dobbiamo essere bravi domani a entrare in campo dal primo, secondo, con il nostro aiuto del pubblico perché giochiamo in casa, mi piacerebbe vedere uno stadio bello pieno domani con i nostri tifosi che ci spingono perché abbiamo bisogno di loro e tutti insieme domani dobbiamo cercare di fare una grande partita.